Assistenza tecnica da Asset per l'ormai nota strada regionale 8 e la richiesta avanzata dal sindaco di Maruggio Alfredo Longo, nonché vicepresidente della provincia di Taranto. Si dice felice Mino Borracino, consigliere del presidente della regione Puglia per l'attuazione del piano Taranto e dal tempo stesso dispiaciuto, perché consapevoli che la provincia di Taranto non disponeva di personale tecnico sufficiente in numeri, anche a causa della riforma del rio che aveva falcidiato le province per poter continuare quest'opera in tempi veloci, tuona. Questa proposta fu avanzata già nel 2019. Ebbene, ben venga questo aiuto, rimarca Borracino, ma si poteva fare molto prima e il cantiere oggi sarebbe stato certamente già avviato, come si dice, meglio tardi che mai.